La sessuologia è la disciplina che studia tutti gli aspetti medici, psicologici e socioculturali della sessualità. Il fondatore della sessuologia moderna si ritiene essere Iwan Block che nel 1907, in un suo trattato, scrive che la vita d'amore nell'era moderna deve essere studiata in modo multidisciplinare. Il percorso di formazione in sessuologia prevede una laurea in medicina e chirurgia o psicologia e successivamente un attestato di un corso specialistico in sessuologia. Generalmente, nell'ambito della sessuologia, si distinguono almeno tre aspetti. Psicologia analizza i processi individuali e relazionali. Biologia medica analizza il ruolo del sistema endocrino e nervoso centrale dentro i fenomeni della sessualità. Antropologia sociale analizza il valore culturale della differenza sessuale all'interno della società. Prima di proseguire con le informazioni medico-sanitarie, ti chiedo due secondi del tuo tempo per chiederti di iscriverti a questo canale e condividere. Grazie a questo piccolo gesto, crescendo possiamo offrire contenuti ancora più informativi sulla salute e la medicina. Ci si rivolge all'esperto in sessuologia, solitamente in presenza di problemi di natura differente, che possono trovare risoluzione in modo. Clinico, per indagare su cause organiche, eventualmente tramite esami del sangue, delle urine, elettrocardiogramma, misurazione della pressione o altro. Tali esami possono essere prescritti soltanto da personale abilitato in medicina. Educativo, si può trattare della risoluzione di dubbi o domande sul benessere sessuale. Terapeutico, ottenere un percorso che porti in modo mirato al miglioramento della propria vita sessuale e relazionale. I sintomi di un disagio sessuale possono essere di diversa natura a partire dalla sua provenienza. In generale, i disturbi correlati alla sessualità possono raggrupparsi a seconda delle fasi nella quali si localizzano disturbi del desiderio sessuale, disturbi dell'eccitazione sessuale, disturbi dell'orgasmo, disturbi fase di risoluzione, ansia da prestazione, problemi al pavimento pelvico, conflitti di coppia. Stai cercando il sessuologo specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di uma innovation. Iscriviti a questo canale e condividi i nostri link. Su YouTube clicca sulla campanellina. Questo ti aiuterà ad essere sempre aggiornato con le nostre informazioni medico-sanitari e migliorare la conoscenza per restare in salute con il tuo corpo. Questa è un'idea di uma innovation. Se sei un dottore specializzato o puoi partecipare al nostro progetto, vai su uno dei nostri siti. Buona giornata!